Benvenuti a Levati! Io sono Tiziana Roberti, lavoro alla filiale di Levati da circa 3 anni e sono la responsabile della filiale. Qui siamo in 7, io più altri 6 colleghi. Quando sono stata assunta lavoravamo praticamente solo con piccoli artigiani, con agricoltori, piccole imprese e ora non si chiama più Cassa Rurale, siamo diventati una banca di credito cooperativo, ma di fatto cerchiamo ancora di stimolare la crescita delle aziende che ci sono sul territorio. Sono Alberto, lavoro da 25 anni in BCC Bergamasca Eurobica e mi occupo di finanza, rete, e sono molto soddisfatto della relazione che ho instaurato con la clientela da poco tempo. Sono felice di lavorare qui perché la componente femminile della filiale di Levati è buona, è ottima. Nel pomeriggio dovremo andare a trovare un cliente che ha cominciato a lavorare con noi vent'anni fa, era una piccola impresa e oggi è diventato un gruppo che fattura circa 300 milioni di euro. Ora andiamo da questo cliente che ci spiegherà quello che fa nella sua azienda. Siamo alla STEMIN SPA di Pugnuovo, siamo con il signor Foglieni Olivo e volevo lasciare la parola a lui per capire come una società, come un gruppo strutturato come questo, si è entrato in contatto con una BCC. Buongiorno, sono Foglieni Olivo, sono presidente della FEX SPA, una holding industriale e siamo in questo momento nella STEMIN SPA, l'azienda più importante operativa del gruppo. Siamo un'azienda che è vicina ai 300 milioni di fatturato consolidato e trattiamo nei nostri stabilimenti circa 180 mila tonnellate di alluminio. La domanda che mi è stata posta è sicuramente molto interessante perché oggi siamo un gruppo strutturato, ma anche siccome sono un imprenditore di prima generazione, quando siamo partiti non eravamo così strutturati, non eravamo così forti, non eravamo così conosciuti. Avere avuto la possibilità che banche del territorio come la BCC ci potesse credere in un progetto che per noi era un sogno è stato fondamentale per l'inizio di una nostra crescita. Le grosse banche tante volte facevano fatica a darci credito perché noi avevamo solo dei sogni, avevamo solo dei business plan, avevamo solo delle idee eccezionali da mettere a terra e tante volte non bastava per le normali consuetudini di avere un credito bancario. A distanza di tanti anni possiamo dire che siamo stati coerenti come non è stata la stessa BCC perché continua praticamente a affiancarci in questa crescita. Noi non ci siamo mai dimenticati di chi ci ha dato un aiuto quando non eravamo nessuno e questo idilio sta proseguendo praticamente anche a distanza di vent'anni. Vedi che sei più te una bellissima valletta? No, 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 non vi ho detto. Sta usando tutta la pellicola per i benvenuti allevate. Adesso basta.